Non uccidermi, è tutto vero, lo confesso, lo confesso signor Meissner, tutto quello che ha detto è vero, è stato un complotto, l'ho organizzato io, non ti prego, ti prego, non voglio uccidermi, Frank, ti scongiuro, è tardi ormai, va all'inferno, Drankul, funziona meglio con questo, lo metta in isolamento, signor Braden, porti il prigioniero in isolamento, legatelo, signor sì, venite a liberarmi da questa sedia, sventi, grazie signor Meissner, ho detto in isolamento, non posso farlo, mettete il direttore agli arresti, signor sì, ho detto in isolamento, cosa state facendo? Le manette, fermi, io sono il direttore di questo istituto e dovete obbedirmi, ora basta, quella era solo una confessione per salvarmi la vita, è impazzito signor Meissner, io no ma lei sì, finché la cosa non sarà risolta da un'inchiesta giudiziaria, noi la terremo agli arresti, io ti distruggo, ti distruggo, Meissner, portatelo via, io volevo solo scontare la mia pena, ed è quello che farai, portatelo via. Frank, io a mia moglie che esco presto, poca l'uomo Frank, no Frank, goditi la libertà. Grazie di tutto. Ehi Frank, è Chris, vedi di stare in gamba, pure tu, grazie di tutto Ciccione. Oh, lei permette? Va bene. Questo è un gentile omaggio di Fidel Castro in persona. Ci vediamo Ciccione. Certo. Ciao Frank! Ciao Frank! Addio Frank! Addio! Altra! Aprile il cancello! Sa cosa mi mancherà di lei, capitano? Che cosa? E il suo sorriso smagliante. Spero di non rivederti, Leone. Ci conti. Chiudere! Chiudere! I'll never know what brought me here. Chiudere!